Questo significa innanzitutto niente più giobbava No No, no, non puoi, non puoi farmi questo E sì, dobbiamo iniziare una nuova era Two, one, live Pisco Power, i miei ossei qui Super Monti Monti, detto anche Monti Sai quanto mi ha preso per il culo mia moglie? Quando ha scoperto il mio Nick Neymar Scacchi Ho detto ma non lo puoi cambiare? Ho detto ormai è quello lì, non so se si può cambiare Comunque, come sai hai dominato l'ultima settimana? Come è andata? Allora, benissimo, sono molto contento Ho giocato un torneo a Todi, città incantevole nell'Umbria Torneo forte, impegnativo E da un po' di tempo non riuscivo a giocare veramente come piace a me Invece ho giocato una partita con un cinese molto forte Che poi ha vinto il torneo E sono riuscito a pareggiare, sono stato l'unico a pareggiare con lui Alla fine sono arrivato secondo E veramente ho giocato una partita come non la giocavo da qualche anno Cioè davvero proprio con impegno Trovando le mosse forti Dando il meglio di me Mi sono veramente piaciuto Sono stato contento Ho ritrovato un po' di emozioni Che insomma, quando insegni Si passa dall'altra parte Tornare a mettersi in gioco è diverso E quando giochi anche un pochino bene, diciamo bene per come posso giocare io A quel punto la soddisfazione è grande Quindi contento Ma per chi, diciamo come me, non ha idea del livello che c'è A livello di ILO, di che ILO parliamo in questo genere di competizione? Un torneo diciamo weekend come questo Che non è proprio, non sono tornei al massimo livello al mondo Ma sono comunque internazionali Il vincitore aveva un po' meno di 2005 Online sarebbe molto di più Sarebbe forse un giocatore che su chess.com dovrebbe avere su 2007 Credo, qualcosa del genere Sono giocatori molto forti Questo è venuto dalla Cina Non sappiamo come Probabilmente vale molto di più del punteggio che ha attualmente Spesso capita che questi giocatori che vengono dall'India, dalla Cina Stando in Europa Guadagnano in 2-3 mesi 2-300 punti ELO Quindi non parliamo del campione del mondo Parliamo però di un giocatore, di un professionista di alto livello Ma sono grandi maestri? Che livello sono? Sono international master? Lui è maestro internazionale Questo cinese è maestro internazionale come me Soltanto che io sono un maestro internazionale un po' Diciamo in una fase della carriera Non in progressione In cui mi dedico ad altre cose Mentre lui giovane, forte Dedica tutto il suo impegno nel gioco Sai che il mio maestro di tennis C'è un periodo che giocava a tennis in continuazione Andavo sempre a questo maestro di tennis molto bravo Con cui mi divertivo Popeva fare chiacchierate filosofica A prescindere dal tennis E lui giustamente mi faceva notare Che aveva ancora delle Un po' di vocazione agonistica Quindi ancora giocava Un po' di tornei Però La cosa che mi faceva notare Che siccome lui spendeva un sacco di tempo a allenare Quando giocava La sua immediata reazione Non era quella di fare punto Era quella di far giocare l'avversario Perché quando devi far giocare un carciofo Cioè lo fai giocare Non è che gli tira una cannonata Che non la prende Quindi la sua reazione Non era la reazione giusta Poi quando doveva giocare in modo agonistico E quindi c'è questo tema dell'allenamento Che sei preoccupato per l'altro Ecco non sei concentrato ad essere un killer assassino al 100% Ecco È esattamente la stessa cosa Come capisco il tuo maestro Proprio Sì, sì, sì E' uguale Per cui Pier ti sto Insomma Ti sto facendo peggiorare come giocatore Ma Questa è quella che Assolutamente no No, no, no L'importante è che ti faccia migliorare io a te come giocatore Perché altrimenti Altrimenti sarebbe Sarebbe brutta come cosa Senti Pier Ti faccio un riepilogo Dall'ultima volta che ci siamo visti È passato una settimanella L'ultima volta che ci siamo visti Ero in un momento di crisi mistica totale Parlo di punteggio Ma solo per avere un numero Non perché pensi che il punteggio sia importante Soprattutto a questo livello Diciamo carciofo a cui sono io Però diciamo Per avere una metrica Anche per chi ascolta Ero sceso sotto i 1500 Quindi ero tipo 1480 Perdevo in continuazione Qualunque cosa Poi ci siamo Ci siamo sentiti Ho iniziato a cercare di evitare Alcune cose che faccio sempre Tipo giocare come un pazzo Che Il motivo per cui lo faccio È che Gioco Perdo Incazzo Allora gioco ancora Dico Non posso finire la giornata così E quindi ne perdo Sette di fila In un disastro totale Quindi spesso questi filotti negativi Quindi ho cercato di stoppare Quell'indole Che ho Proprio di fretta Ecco La fretta ce l'ho sempre avuta Come indole Quindi ho giocato meno partite In generale Quasi sempre Non sempre Però quasi sempre meno partite Ho fatto un sacco di problemi 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 Da risolvere E devo dire Sono tornato adesso Sopra i 1600 Complessivamente Mi sento abbastanza bene Ecco Alcune cose che ho notato Di cui ti volevo parlare La prima È che quando gioco col nero Mi sento come Se andassi sul ring E appena parte il gong Io mi metto in un angolo E sto fermo così Ok Arriva l'altro Mi dà un sacco di legnati Io sto fermo E cerco di schivare un po' di colpi E E però ogni volta Gioco col nero E quella sensazione lì Che è orribile Ecco È proprio orribile Mentre col bianco invece Diciamo Parto da un'idea di Jobava E che però mi apre Poi inizio a A spaziare Vado Cioè è molto più ariosa Ecco quella sensazione Preferisci giocare col bianco Ah cioè Proprio Non c'è paragone Ecco col nero Quindi è questo Allora ho cominciato col nero Gioco sempre questa Karokan E lo so che le aperture Al mio livello Non è che uno Però comunque Cioè Come dire Se uno Parte proprio Malissimo E alla quinta mossa Se già in difficoltà Cioè Non è il massimo Ecco Quindi Quello che stavo cercando Di capire È come Quanto meno partire Senza questa sensazione Angosciata Beh innanzitutto Innanzitutto è una questione Di atteggiamento Cioè devi capire Che cosa significa Ah tu sei stato Sei un giocatore di alto livello Tuo sport Nel ping pong Anche a tennis Immagino che giochi bene No Quando tu servi O quando O quando ricevi Non è la stessa cosa Giusto? No certo Assolutamente Ma se tu ricevi Non puoi aspettarti Di giocare come se stessi servendo Giusto Ok Quindi Quando io ti faccio E4 O D4 O una buona prima mossa L'atteggiamento che devi avere Qui giro la scacchiera L'atteggiamento che devi avere Deve essere quello di dire Ok Sto ricevendo la palla Che l'altro mi ha mandato Quindi non è che posso tirare una cannonata Non è che posso stare lì E fare una cosa pazzesca Devo capire bene Come risolvere i problemi Che mi ha creato Cioè il nero Per prima cosa Deve pensare A risolvere il problema Della prima mossa Si parla negli scacchi Di vantaggio Del tratto Questa è un'ampia E dibattuta questione Cioè il bianco ha il vantaggio Oppure no Il bianco può aspirare al vantaggio Oppure no Tratto No E la mossa Anticamente si chiamava il tratto Quindi Probabilmente si Ti dico io Il bianco può aspirare A stare un pochino meglio Perché ha cominciato Se comincia bene Crea dei problemi all'avversario Per esempio Una cosa tipica Degli scacchi Se noi facciamo sempre Le stesse mosse No La partita allo specchio Io faccio una mossa La stessa mossa Se ti copio Vedi Per esempio Questa è la difesa russa Ma se ci copiamo Vedi che ci siamo copiati Si Allora in questi casi Qua ti rigiro La scacchiera In questi casi Lo specchio Si conclude Con la vittoria Di chi comincia Certo Ok Quindi negli scacchi Non è possibile Copiare perfettamente Qui per esempio Il bianco fa la mossa Donna e due E se continuiamo A fare lo specchio Che è la cosa migliore Per il nero Perché Se sposta il cavallo Che succede? Se sposta il cavallo Che succede? Ho uno scacco di scoperta E pappo la regina Dove lo fai? In C6 Bravo Cavallo C6 Scacco di scoperta Deve fare questa mossa Ma il bianco Come minimo In questa posizione Vincerà un pedone Perché il nero Per sua fortuna Non perde il pezzo Lo recupera Grazie all'inchiodatura Però il bianco Lo difende E alla fine Il nero Starà molto male In questa posizione Ok Ok Quindi Partiamo dal presupposto Che il bianco Muovendo per primo Ha un leggero vantaggio Vantaggio del tratto Quindi noi con il nero Dobbiamo assumere questa cosa Dobbiamo dire Ok Voglio risolvere I miei problemi di sviluppo I problemi di sviluppo Sono impedire Il terribile affiancamento centrale E poter sviluppare Liberamente i pezzi Ok Ecco perché E5 È la risposta perfetta Da questo punto di vista Chiaro Che però io non gioco mai Non lo giochi ancora Perché io ho tante No Anch'io ho tante notizie ad arco Ok Va bene Ok Quindi il primo tema È questo qua Il secondo tema È un tema di gestione Del tempo Dove Io lo so Che devo Pensare di più E a volte gioco Come fossi In una bulla Tink 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 Cioè Vado Però quello che noto È che quando invece Mi fermo a pensare Poi arrivo Che io ho 30 secondi E l'avversario ha 7 minuti E a quel punto È pan Cioè Basta Finito il match Nel senso Non so Quindi ho proprio un problema Di gestione del tempo In generale Vado o troppo veloce O troppo piano Insomma Quindi questa è una cosa Che ho notato La sua Però Vai troppo veloce O troppo piano Nell'ottica del risultato Ma nell'ottica di trovare La mossa migliore Che tu possa trovare Non vai troppo piano Cioè Ti ci vuole quel tempo E il tempo che stai impiegando È un tempo speso benissimo Poi perdi la partita Perché non è più tempo Ma non fa niente Perché tu In quel tempo che hai usato Hai veramente fatto il massimo E diciamo Sei cresciuto Sei migliorato Quindi Quello che ti consiglio Puoi perdere Anche decine di partite Per questo motivo Ok Il tuo obiettivo Non è quello Di saper giocare Col giusto tempo Per avere il miglior Risultato agonistico Non è ora Il momento Di fare questa cosa Cioè Questo significa Ottimizzare La performance Di un agonista Ok Non stiamo ancora Facendo questo Tu adesso Devi proprio imparare Bene A giocare a scacchi Per cui il risultato Relativamente Ti deve interessare È chiaro che ti dispiace Quando perdi Ok Ma se tu riesci a pensare Su dieci minuti Riesci a pensare Nove minuti Bene Concentrato E alla fine Sei disperato Perché quello C'ha più tempo E tu perdi Non fa nulla Ok Questo è un punto centrale Monti perché Devi per forza Dobbiamo per forza Dare più profondità Al tuo gioco Ok La profondità Non c'è Non tanto perché Non ce la vuoi mettere tu Quanto perché Il tipo di partite E come fanno anche Gli avversari Perché evidentemente Gli avversari Fanno la stessa cosa Che descrivevi tu Giocano veloce Per massimizzare Non la possibilità Di vittoria Di metterti in difficoltà Allora dobbiamo Creare Un ecosistema Alternativo Ok Un ecosistema Di buoni D'accordo Che hanno buone intenzioni Tu stai nell'ecosistema Dei cattivi In questo momento Ok Nel Quindi Introduciamo L'incremento Ok Ok Non giocare Poi Continua a giocare così Perché ti diverti Eccetera Va bene Però Una parte di partite La facciamo Per esempio 10 minuti Più 10 secondi Ok Ok Poi c'è un'altra cosa interessante Si può giocare Per esempio Anche Unrated Senza Variazione di punteggio Lì è un po' A doppio taglio Perché talvolta Chi gioca così Non gioca molto seriamente Allora Facciamo una cosa alla volta Io direi Passiamo a partite Con l'incremento E Una volta Durante la settimana Fatti un giorno Dedicato solo Alla profondità Cioè ti fai una partita Sola O due partite Ma lunghe lunghe 20 minuti 30 minuti Quanto riesci a resistere Ok Vedrai che stranamente Ci si stanca di più A giocare una partita Sola Più lunga Che lo stesso tempo Tante partite Ok Però questa stanchezza È il segno Che tu veramente Stai costruendo La tua mente scacchistica Stai veramente Facendo un lavoro Bello Impegnativo Chiarissimo Ultima cosa E poi Partiamo Però magari Ecco sono problemi Che anche a chi Ci sta guardando Possono tornare utili Una cosa che ho notato È che Periodicamente Piglio Scacco Matto in uno E stavo ragionando Perché Anche su partite Su cui sono concentrato Che non sto giocando Ad Minchiam Cioè sono lì E piglio Matto in uno E la cosa che ho notato È che Sono talmente concentrato Ad attaccare Cioè io sono concentrato Sono passato dal Mi minacci E quindi mi sposto Al Mi minacci E io Come dire Penso Vado avanti Invece Che a volte Proprio Non guardo neanche Se ho Un matto in uno E quindi proprio Ho questo Sono felicissimo Di questa cosa Non fa niente Sono felicissimo Che tu sia entrato Nella modalità Mi minacci E non Diciamo Vado per la mia strada Perché è quella giusta Ovviamente A un certo punto Anche queste sconfitte Così Dolorose E improvvise In un certo senso Costituiranno La tua corazza Cioè A un certo punto Svilupperai Una forma di Sistema Quasi immunitario Oh madonna Qua sento la minaccia Di matto Anche senza vederla Mi si accende qualcosa Dice qua Quindi diciamo A un certo punto Con l'esperienza Queste minacce Così evidenti Grosse Gigantesche Che spesso Nascono Da Una nostra Mancanza Di preparazione Nel gioco Perché magari Prima di fare La mossa nostra D'attacco Avremmo dovuto Perdere un tempo Che ne so Per dare una casa Di fuga Per spostare Un pezzo Che sono tutte cose Che poi Col mestiere Questo è mestiere A un certo punto Dici vabbè Ok so che posso Fare questa mossa Però c'è anche Il mio re Che sta prendendo Matto Fammi spendere Un tempo Per preparare Un'eventuale Casa di fuga Capito Cioè il matto In una In realtà È sempre un matto In due In tre In quattro C'è un pregresso Che tu non hai visto Proprio Capito Poi ti arriva Tutto insieme E ti travolge Con l'esperienza Adesso Col matto In una Già ti corazzi Contro il matto Magari Col tempo Vai sempre più indietro Qualche Comincerai Qualche mossa In anticipo A vedere Qualcosa che non va Nella tua posizione Chiaro Ok Ok Quindi direi Questo Però per il resto Mi sento bene L'altra cosa che noto È che non riesco mai A trovare un momento Per giocare Veramente Consensuale Solo per me Cioè dovrei essere Da solo Vivere in un universo Parallelo Se no C'è sempre qualcosa Che succede Nella mia situazione Ecco Quindi Questo è una Però è un aspetto Con cui devo convivere Non è che posso far finta Di vivere Divento single Cioè basta Vado a vivere in tiber Quindi non è possibile No L'isola deserta C'è la famosa Esatto Ho visto Nelle tue partite Recenti Tante sviste Molto gravi La donna Impresa O delle minacce Macroscopiche O addirittura Da solo Ti sei messo Nei guai Eccetera Che significa Che forse Stai giocando Un po' troppo E d'altra parte È quasi un segnale positivo Perché se hai Che ne so 1.620 Al netto Di enormi Strafalcioni Significa che Il tuo fondo di gioco È molto Più alto Di questo qua Ok Quindi Anche questo è un aspetto Su cui lavorare Diciamo Errori proprio Gravi 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 Così gravi Piano 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 Devono quasi Tendere a zero Non si fanno Un po' di così Gravi Ok Questo sì Questa è una disciplina Cioè tu non puoi accettare Da te stesso Di fare errori del genere Ok Parti dal presupposto Che non fanno parte Di responsabilità Gioco veloce Non penso Non conosco L'apertura No Sì Va benissimo Invece carica di di responsabilità Per questo ti dico Rallenta Rallenta molto Riduci le partite Dai più importanza Alle partite Che giochi Ok Questa è una cosa da fare È un impegno Molto Grosso Perché quando uno Comincia a giocare C'è la dinamica Che tu hai descritto Del giocare Per giocare No E a un certo punto Però gli scacchi Sono più grandi C'è il gioco È più grande Del giocatore Non possiamo vincere Contro gli scacchi È impossibile Ok Non ci riescono Al momento Non ci riescono Neanche I computer Perché troppo Troppo complesso Ci riusciranno Sicuramente Perché è un gioco Finito Quindi è inutile Che tu te la prendi Col gioco O te la prendi Con te stesso Perché non riesci A sconfiggere il gioco Questo fa parte No Degli scacchi Invece Te devi prendere Con te stesso Quando ti metti In condizioni tali Da non rendere Al meglio Certo Yes Ok Ok Va bene Allora Arriva Pasqua Monti Pasqua Resurrezione Giusto Dobbiamo Ho pensato Che è il momento giusto Per fare Pulizie di primavera E grandi 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 Cambiamenti Sei pronto Secondo me Sei pronto Sei pronto Ho aspettato Un po' Ti ho lasciato Anche qualche giorno Tranquillo Ok Ma secondo me Sei pronto Questa è una cosa Bella e dolorosa Ok Io non vedo Loro Questo significa Innanzitutto Niente più Giobbava No 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 Non puoi Non puoi Non puoi Farmi Questo E si E si E si E si E lo so E' molto brutto E molto molto brutto E adesso Lo so Monti Hai bisogno Vedi questa posizione 4 e 5 Hai bisogno Di passare Da questa Da questo momento Della crescita Scacchi Devi giocare 4 e 5 Gioco aperto Devi giocare Ma vedrai che è molto più bello Francamente Ah Se vuoi possiamo chiedere a Giobbava stesso Che cosa Che cosa ne pensa E ti dirà la stessa cosa che ti dico io Ok Ok Devi passare da questa fase 4 e 5 Col bianco e col nero Cioè proprio adesso che Stavo diventando un maestro Della Giobbava Cioè tutte le sidelines Impostate nel mio cervello Via Proprio in questo momento Ok Ok Dobbiamo Che buona notizia che mi hai dato Aspetta che Vado a prendere Se ho il fazzolettino Per Ok Dobbiamo Iniziare una nuova era Ok Che sarà molto più bella Molto molto più bella Ok Allora Non è neanche La quantità di informazioni Che farà la differenza Quanto piuttosto L'atteggiamento E il fatto di Concentrarti a ogni mossa Usare Perché adesso tu sei diventato bravo No Tatticamente Con gli esercizi Quindi questa tua forza Nel calcolo Deve essere finalizzata E mettiamo Delle posizioni Molto più interessanti Che poi ti faccio divertire Questa Dove essere la parte brutta Ma c'è anche la parte bella Allora Col bianco Ce la giochiamo Ti piace la Danimarca? La Danimarca? Sì Copenaghen Siamo così Col bianco Ti voglio insegnare Il cosiddetto Gambetto Danese Ok Questa è l'apertura Più selvaggia Che esista Ok? Vabbè 4 e 5 Normale Cavallo F3 Ora noi ci occupiamo Soltanto di cavallo C6 Siamo possibili altre due mosse buone Cavallo F6 Che è la difesa russa Oppure D6 Che è la difesa filidor Ma non ci interessano queste mosse Noi ci interessiamo di cavallo C6 In questo momento Sì D4 Questa è la cosiddetta Apertura O partita Scozzese E per D4 Qui di solito Si mangerebbe il pedone Che è una mossa normale No? Sì C'è il gambetto Che ti propongo Comincia con la mossa C3 Questo è praticamente Come al contrario Il gambetto dall'altro lato Che c'era Eh Hai visto che tutto torna Piano piano Ti sto portando dalla mia parte E4 Sì sì È esattamente quello che dici Ma questo è meno rischioso Perché non tocchiamo Il pedone F Il pedone F È un pedone problematico Allora È un po' davvero come Scrivere con la mano destra O con la mano sinistra Giocare 4 e D4 Capito? Tu hai cominciato Con la mano sinistra Ok Adesso qui passiamo Proprio alle cose naturali Semplici Intuitive Che però sono La base Di tutto quanto Perché facciamo questa cosa? Dopo D per C3 È possibile anche giocare Immediatamente D5 con il neano Ma non ti voglio riempire la testa Perché io voglio creare Una dinamica Nella quale Le tue partite Saranno poi la tua teoria Le cose che devi conoscere Ok? Non mi interessa che C'hai Che ne so Un documento da studiare Da imparare a memoria Da imparare a memoria Sì questo anche aiuta Ma voglio che giocando Succedano delle cose Che poi vediamo E mattoncino su mattoncino Si costruisce la tua conoscenza Ok? Imparare un po' Dalla pratica Da quello che ti dico Combinare queste due cose Perché altrimenti Uno ha sempre paura di giocare Non la conosco abbastanza Non sono preparato Non è vero Uno si butta Provi Devi avere un'idea generale Un'infarinatura Guardare qualche bella partita Un modo proprio Di interpretare la partita Ok? Uno spirito Tu devi andare a giocare La partita Cioè gli gioco Il gambetto danese Voglio fare così Voglio giocare veloce Voglio giocare in questo modo Ok? Poi ovviamente In partita Ci devi pensare Succedono un sacco di cose Che succede sul D per C3? La cosa bella È che noi Adesso vedi Ci c'è più 2 Il nero Sacrifichiamo Un terzo pedone Cioè giochiamo Tutto 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 Per la velocità Nello sviluppo Soprattutto Nella variante principale Dopo C per B2 Alfiere per B2 Ok? In questa posizione Il bianco ha sacrificato Ben due pedoni Però in cambio Cosa c'ha? In cambio c'ha Tre pezzi sviluppati Sono pronto a fare l'arrocco Ho un pedone al centro E posso attaccare i punti sensibili F7 e G7 Ok? Qui ti diverti Come un matto Ok? Il nero deve impegnarsi adesso A non perdere subito Deve cercare di Recuperare un po' di terreno Sullo sviluppo E non è facile Perché qui ci sono già Tante minacce Piuttosto Problematiche Sfile B4 Scacco È una delle mosse Pi' naturali Noi facciamo Cavallo C3 Adesso per esempio Se il nero Fa cavallo F6 Possiamo Semplicemente Arroccare Sì E effettivamente Qui il nero Potrebbe mangiarsi Ancora Un altro pedone Certo Però Adesso che Diciamo Abbiamo Irrobustito La capacità di calcolo Secondo te Anche senza conoscere È buona la mossa Cavallo F4? Ma intanto Apre G7 È Che è un grande problema Apre G7 Apre la colonna E Gli Gli Pucca via Questa parte Certo Poi gli posso pinnare Cavallo Facilmente Puoi fare Torre 1 Torre 1 Donna D5 Yes Capito? Sì sì È un'ottima posizione Tutta una serie Di mosse Assolutamente spaventose Qui probabilmente Prende matto In poco tempo Cioè il senso Di giocare così Rispetto al Giobava Anche rispetto All'altro gambetto Vedi come è tutto Più aperto E più veloce È tutto Rapido Capito? Questi sono gli scacchi Naturali Per così dire Cioè tutto si fa Con grande Grande semplicità E naturalezza Non ci sono Grandi schemi Qui si aprono le linee Si portano i pezzi Al centro E si attacca Sì Che è il tuo gioco naturale Monti Cioè tu In pratica Ti sei un po' Nascosto All'interno di uno schema No? Che la Giobava Come tutte le aperture Di questo tipo È uno schema Un sistema di gioco Eccetera Che ti permette Una certa facilità Però in realtà Il tipo di gioco Non è che è esattamente Il tuo Perché è un po' Chiuso come gioco A te servono linee aperte Ottimo Capito? Quindi giocando naturalmente A scacchi Aprendo le linee Anche sacrificando Uno o due pedoni Pazienza Però se quando li sacrifichi Nella Giobava Vabbè Ancora la posizione è chiusa C'è sempre da costruire Quando li sacrifichi Nel gioco aperto Questo si chiama Gioco aperto E diventa veloce 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 Il gioco Ok? Qui hai già vinto Donna D5 Credo che sia immediatamente Decisiva Con le mosse Non so come fa il nero A difendere Sia F7 Che E4 Beh però Arrocca Se arrocca Ci mangiamo Certo Molto volentieri Il cavallo Sì Sì E poi comunque Ho i cannoni di Navarone Puntati Sul re Ho quattro pezzi fuori E lui è ancora fermo Con tre pezzi Morenti Dietro di là Quindi No no È Super Cioè Ottima posizione Mi piacerebbe un sacco Avere una posizione così Per cui per esempio Il nero Deve arroccare Quanto prima No? Non deve mangiare Ma anche qui Abbiamo un'ottima posizione Qui ti puoi divertire Lanciando degli attacchi Pazzeschi Cavallo G5 Per esempio Adesso attacchi F7 Ma vada come sono forti I pezzi Cioè tutti i pezzi Bianchi Hanno degli obiettivi G7 F7 H7 Le torri Possono rapidamente Entrare in gioco Puoi spingere in F4 Puoi portare la torre Su qualche colonna Non ce ne sono tante C1 D1 Capito? Non c'è una ricetta unica No? Ti devi un pochino Sbizzarrire A guardare quello Che puoi attaccare Con i pezzi Provare a fare Questi attacchi Ottimo Questa è Prego Diciamo è lo scenario Ovviamente Più idilliaco Di questa apertura In realtà ci sono Due diramazioni principali Dopo D4 E per D3 Il nero O se lo mangia Il pedone O ti gioca a D5 Ok Che è una mossa Abbastanza saggia Ok Su D5 Possiamo comunque Creare una posizione Tesa Perché la sua donna È costretta A uscire fuori E sai che Quando esce fuori La donna Possiamo attaccarla No? Durante un sacco di tempi E qui viene fuori Una posizione Molto bella In cui il nero Praticamente È pronto A fare l'arrocco lungo Basta che sviluppa L'alfiere E farà l'arrocco lungo Però al tempo stesso Quando fa l'arrocco lungo E noi facciamo L'arrocco lungo Si crea la situazione Che a te piace molto Di arrocchi eterogenei Quindi garanzia Di divertimento Capito? Cioè io ho scelto Per te questa linea Per due motivi Primo Perché ti serve A crescere Ti serve proprio A giocare posizioni Del genere Secondo Perché ricadi In situazioni di gioco A te congeniali Ti si addice Se lo dici tu Così ti credo Credimi Ok Ok È chiaro che adesso Tu sei tristissimo Perché non c'è più Diciamo la cosa Che ti ha portato No? Però è così Aspettate di distruggere E costruire Distruggere Adesso purtroppo Stiamo distruggendo Una parte di super monti E purtroppo è così Però no È il mio lavoro Non posso fare altrimenti Capito? Adesso ti sei allenato Ti sei irrobustito Tatticamente Vedi le mosse Riesci a seguire Sei proprio alla ricerca Di profondità Ma il fatto di continuare A giocare Sempre Le stesse mosse Ti toglie La possibilità Di trovarla Questa profondità Sì Ok Bisogna proprio Cambiare pagina Completamente Col bianco E col nero Adesso Togliamo anche La carocan Facciamo schemi Con i 4 e i 5 Ok? Scacchi classici Scacchi classici Il centro Lo sviluppo La sicurezza del re Senza troppi pensieri Senza troppe strutture Giocare naturale Naturale E calcolare Ma l'attesi Diciamo Ad esempio Di questa posizione Se io penso A uno svolgimento Di questa posizione Cavallo c3 Attacca la donna Lui pinna Il mio cavallo In b4 Certo E poi Diciamo Il mio obiettivo Da questa vicenda E Far uscire L'alfiere Bianco Arroccare Velocemente Bravissimo Vedi che Questa è la cosa Giusta da fare E l'hai detta Dopo breve riflessione Ok E poi A quel punto Nulla Sviluppare E all'attacco Ma vedi Com'è naturale? E' vero Che ti viene Naturale Questa cosa? Sì Sì Diciamo Non c'è molto Da La rock E' chiaramente Super rapido Questo è possibile Perché il centro Si è aperto Capito? Le linee sono aperte Allora i pezzi Giocano Mentre Nel job Negli schemi chiusi I pezzi Devono ancora Trovarsi Delle Prospettive Che poi tu lo sai Come si fa E quindi ti trovi bene E' un conto Però Mi darai ragione Che è un gioco Meno naturale Rispetto a questo Se si è molto più Diciamo costruito Hai delle memorizzazioni Di posizioni Che dici Ok So che quella roba lì Funziona spesso Se mi muovo in questo modo Esatto Esatto Qui invece Dopo aver fatto A queste cose naturali Poi ti divertirai A buttarti Proprio Al corpo a corpo Dici a un certo punto Vabbè Le linee sono aperte I pezzi sono sviluppati Usiamoli Andiamo avanti E quindi Entrerai in una dinamica Di attacco E contrattacco Difesa Capito? Mosse che contano Non mosse Che dice Vabbè la faccio Mosse che se non la calcoli bene Magari perdi Perdi un pezzo Vai in grosso svantaggio O se la fai bene Vinci Sì Lì sarai costretto A calcolare Ok? Allora Cosa succede In questa diramazione? Cerchiamo Ti do un'infarinatura Poi chiaramente Ti lascio questa Nell'aula Questo è buono Nelle aule Di chess.com Queste cose Te le puoi guardare Ok? Te le guardi Con calma Te le studi Ok? Le confronti Con le partite Che hai fatto Ovviamente Quando giochi una partita Su queste varianti Io ti consiglio Dopo la partita Soffermarti un attimo Riguardare le prime mosse E confrontarle Con quello che ti ricordavi E se c'è un momento In cui ti rendi conto Che non ti ricordavi Non ti ricordi Prenditi un appunto Anche scrivi Semplicemente Ma in questa posizione Qual è la mossa Che devo fare? La conosco O non la conosco? Perché a volte Magari non l'abbiamo Neanche vista No? Quindi dobbiamo Studiarla Ecco perché ti dicevo Usiamo la pratica Per migliorare Teoricamente Quindi la partita Deve essere l'occasione Per Mettere alla prova Le tue conoscenze Sin dall'inizio Dici Ma ok Questa qui Me la ricordo Non me la ricordo L'ho studiata Non l'ho studiata Come ragionerei Che farei? Ok? Sì Allora Riprendiamo dall'inizio Dopo i 4 e i 5 Cavallo f3 Cavallo c6 D'accordo? D4 La mossa che apre di più il gioco Apre il centro immediatamente E per D4 Che mossa fai? C3 C3 Ora ci sono due casi di studio Fondamentalmente In realtà tre Però non voglio Se cominciamo a andare troppo Troppe informazioni Diciamo che ci sono due casi di studio fondamentali Cioè Il nero può accettare subito la sfida O il nero può rifiutare la sfida E reagire Il nero deve reagire con la mossa D5 Ok? Yes Quando il nero reagisce con la mossa D5 Nella tua mente Già creati un caso tipico Dici in che situazione siamo? Siamo in situazione in cui ci saranno gli arrocchi eterogenei Ti mostro perché Perché Mangi in D5 E' costretto a mangiare perché stai attaccando il cavallo in C6 Quindi donna per D5 Unica C per D4 Ora se ti lascia fare alfiere E2 arrocco Poi arriva cavallo C3 con effetti devastanti Quindi deve sbrigarsi a arroccare lungo O a creare delle minacce No? Sì Alfiere G4 sta minacciando il D4 Minaccia alfiere per F3 Elimina il difensore E poi si mangia D4 Sì Alfiere E2 Punto esclamativo Perché punto esclamativo? Facciamo un esercizio di calcolo mentale Dopo alfiere per F3 Alfiere per F3 Donna per D4 Che succede? Mangio il cavallo in C6 scacco Bravissimo Vedi che sei diventato forte tatticamente Ci metti un attimo a vedere le cose E' papola raceno Hai visto? Il momento è giusto Monti Alfiere E2 Chiaramente qui Il nero non fa questa cosa Ma cerca di darti fastidio Sì Ripeto Alfiere per F3 Alfiere per F3 Donna per D4 Sarebbe proprio un gravissimo Sì Allora Per esempio Alfiere B4 scacco Che è la mossa che volevi fare anche tu Cavallo C3 Sì Alfiere per F3 Questa è la variante principale Una variante sofisticata Francamente Non so quanti te la giocherebbero In questo modo Perché al posto di Alfiere B4 È più naturale forse fare arrocco lungo Però su arrocco lungo Cavallo C3 Alfiere B4 Arrocco corto Sì E adesso Se ti mangia in C3 Perché la donna è attaccata Sì Se ti mangia in C3 Mi apre la traversa B Certo Bravo Ti apri la colonna B Risolvi anche il problema di difendere D4 Perché adesso c'è questa bella struttura Poi farai torre B1 Poi farai torre B1 Con grandi possibilità d'attacco Se ti fa donna A5 Che è la mossa migliore Per infastidirti Semplicemente finiamo lo sviluppo Guarda come si gioca a scacchi Non mi interessano i pedoni Vuoi C3? Prendi C3 Tu Ok? Non mi interessano A me interessano le linee aperte Vuoi D4? Prendi anche D4 Io qui farei torre B1 Per esempio Prossima mossa donna A4 Prossima mossa torre FC1 Cioè Il senso degli scacchi è proprio Mettere i pezzi dove fanno più cose E ovviamente fanno più cose dove le linee sono aperte Ed è una cosa talmente naturale Che se noi perché Che è successo Nell'evoluzione del pensiero scacchistico È successo che Si sono create tante cose astratte Si è detto per esempio Che un pedone vale 1 Ma un pedone è un pedone Mica vale 1 1 di che? Non c'è una moneta scacchistica Capito? O si sono create le idee strategiche Ma in realtà I pezzi sono più o meno forti A seconda di quanta mobilità hanno E quanti obiettivi d'attacco hanno Si Quando apri le linee Stai aumentando la mobilità Ma in un senso puramente geometrico Però è anche vero Che Se poi vado in un endgame Beh a quel punto c'è meno pedoni Insomma Si Ma come hanno detto Non mi ricordo più di chi è questa citazione Ma Una frase famosa Egli scacchi Dice che Gli dei Prima del finale Hanno messo Il medio gioco Certo Quindi Prima Prima che ci arriva Il nero in finale Qui Sai quanti gliene fai vedere Certo E questo mi ricorda Piet Ti dico solo questo aneddoto Pongistico Perché è perfetto Per Questa vicenda Del medio gioco C'era un giocatore cinese Fortissimo Anni fa Che tirava Un dritto Che faceva Si vedeva il fumo Tipo Cioè Tirava un dritto Che sentivi solo il rumore Spostava il tavolo Allora una volta C'era un giocatore italiano Che doveva giocare Contro questo cinese E l'allenatore in panchina Che era un carciofo Gli dice Oh mi raccomando Allora Fai così Gli batti corto Lui risponde Tu gliela metti Era mancino Gli la metti lunga Sul dritto di là uscire Lui tira il primo to spin La blocchi sul rovescio Lui a quel punto Di rovescio non è tanto bravo Te la rimette in campo E tu a quel punto Attacchi Il problema è che Appena questo Gli la dava sul dritto Il tavolo si spostava Capito Cioè non arrivavi All'end game Non c'era In game C'era Vado a casa E arrivederci Il piano era buono Ma Il piano era buono Ma sottovalutavi il fatto Che se uno Come dire Nel middle Nel gioco Insomma Quando è sviluppato Poi è dominante A quel punto Non ci arrivi mai All'end game Sì Noi qui stiamo giocando Come il cinese Capito Stiamo veramente Cercando il dritto Fortissimo Qua non ci interessano Le cose intermedie Questa è una strategia Proprio naturale Semplice E limpida Aumento la mobilità Dei pezzi Li piazzo Cerco obiettivi Di attacco E attacco Ok E qui fai pesare Anche che sei bianco Capito Sì Va bene Questo mi è Tutto chiaro Facile Questo è un caso Di studio Poi chiaramente Ci sono tante finezze No Io quando preparo Chiaramente Un giocatore Quando si prepara a giocare Cerca di vedere Tutte le possibilità Però Non ti voglio riempire la testa Perché poi ti capiteranno In partita E ci torneremo tante volte Su queste cose Per esempio È più precisa Per il nero Questa sequenza Dare subito L'alfiere Per poter giocare Donna c4 Che ti impedisce La rocco 4 Ok Allora questa è la cosa Più fastidiosa Su cui dobbiamo conoscere Questa bellissima mossa Alfiere 3 Sempre sacrificando Il pedone Perché Vada che Come sono gli scacchi Qui abbiamo Un pedone in meno E abbiamo perso La rocco Però Stiamo meglio Perché abbiamo Tante linee aperte E abbiamo Due alfieri La posizione È di natura aperta Ti ricordi Quando ti dissi Le alfieri e i cavalli No? Sì Perché l'alfiere deve aprire Il cavallo deve chiudere Sì sì Qua sei nel Nel regno degli alfieri Esatto Qui c'hai due alfieri Che sono spaventosi Poi appena avrai Un po' di tempo Te ne scapperai Con re Questo si chiama La rocco artificiale Puoi fare per esempio Re g1 H3 Re h2 È un'idea O anche semplicemente G3 Cioè facciamo Mosse un po' così Puoi fare anche A manina al rocco A manina al rocco G3 Re g2 O cominciare immediatamente Delle mosse Torre b1 D5 Ci sono tante mosse D'attacco qui Interessanti Questa è Quella un po' più particolare Ma anche il nero Deve reagire molto bene Quindi non so Quanto Diciamo Sia urgente Studiare tutti i dettagli Se succede Sai che fai in questo modo Più o meno C'hai qualche idea Poi Volta per volta Migliorerai E qui Per esempio Dopo al rocco lungo Del nero Che è la mossa più forte Una mossettina Un po' Difficile Da conoscere Questa qui Donna B3 Questa forse è la variante Che richiede più conoscenza Di mosse precise È buona Donna B3 Perché dopo Donna per B3 A per B3 Si continua Sempre Ad aprire la posizione Abbiamo aperto la colonna O D5 Che può arrivare Può mangiarti D4 Questo è vero Se ti mangia D4 Probabilmente posso mangiare D4 E mangiare A7 Questa è un'altra situazione Di gioco abbastanza tipica In cui ci sono gli alfieri Di colore contrario E probabilmente ci conviene Perché stiamo attaccando Il suo re Per dirti una fesseria Se fa B6 Già praticamente Ti stai dando matto Deve fare C6 Arrocchiamo E ce la giochiamo Sull'attività dei pezzi Va bene Non può sviluppare il cavallo Perché perde la torre Per esempio Ottimo Sembra facile Quando le fai tu le mosse Sembra facile Eh lo so Lo so Lo so Questo è un caso di studio Diciamo Quando ti fa D5 Potrebbe farti D per C3 Che è quella che secondo me Ti giocheranno di più D per C3 Che mossa fai? Vediamo se ti ricordi Le prime mosse Alfiere C4 Bravo E ignoro completamente Se lui mangia Vado in C2 E ho due alfieri Che chiaramente È una posizione Super questa qua Questa è una posizione Da sogno Cioè Arrocco E poi E poi vado Esatto Allora Qui Ci sono diverse Possibilità interessanti E anche diverse cose Da sapere Cioè per esempio Dopo Alfiere B4 Scacco Cavallo C3 Cavallo F6 Arrocco Una mossa molto Buona da conoscere E la mossa Questa è probabilissima Per la mia esperienza Capita molto spesso Questa posizione Adesso in pratica Il nero si sta difendendo Solo con questo cavallo Sì Quindi noi Glielo togliamo Cavallo D5 Sì sì E qua sta messo E qua sta messo molto male Perché molti ti mangeranno Qui puoi mangiare col pedone E abbiamo creato una posizione Pazzesca Come la prosegui Questa posizione Pazzesca Ora vediamo Perché qui mi ispira La mossa D6 Sì Molto molto Cattiva Ci sono dei temi Con l'alfiere qui Che non è difeso A sufficienza Donna D4 Minaccerebbe matto Per esempio Donna B3 E poi Donna C3 È un'idea Distinto farei D6 D6 mi viene proprio Natural Ma qui Però D6 Lui poi mangia Protetto dall'alfiere Qua ti butto i pezzi La strategia è buttare i pezzi Addosso all'avversario Molto selvaggia Adesso sto minacciando Sia Donna D3 Che Donna H5 Che eventualmente Donna G4 Su una mossa come H6 Ti faccio Donna H5 Guarda come sono forti Gli alfieri Monti H per G Donna per Matto imparabile Nel senso Se fai G6 Donna F6 Matto imparabile Che minaccio sia H8 Che G7 Ma sono gli alfieri Che sono fortissimi Quando stanno su due Diagonali Attigue Impediscono in pratica Ai pedoni Di creare uno schermo Perché Se ne muovi uno Blocchi un alfiere Ma gioca l'altro E viceversa Qui per esempio Su cavallo G6 Donna per G6 In questo caso Facciamo finta che giochiamo alfiere di 3 Non è buona alfiere di 3 Attenzione Sto soltanto giocando Voglio costruire Una posizione E il nero fa B6 Per sviluppare l'alfiere Qui col bianco Che mossa fai Monti? Queste sono le mosse Che escono fuori Soprattutto Se non solo Dal gioco Bello Diretto Lineare Potente Di E4 E5 O del gioco aperto In genere E sono idee classiche Degli scacchi Idee che devi Che devi conoscere Forse l'hai già vista qualche volta Forse non l'hai vista mai Ci puoi arrivare Col metodo delle mosse forzanti Come sempre Allora Dico delle mosse Che mi vengono in mente Al volo Dunque Parto La prima che mi veniva in mente Era Alfiere Mangia G7 Re Mangia G7 Già qui Un indizio Quando fai una mossa Con un alfiere per G7 E già Alla seconda mossa Non c'hai una mossa Di quelle Pelle toste Già Ok Dai le mosse più forzanti Usa le mosse forzanti Quali sono le mosse più forzanti qui? Vabbè Ho Alfiere H7 Scacco Ok Scacco Poi Questo è l'unico scacco Per cui calcoliamo lo scacco Alfiere H7 Scacco Ho anche Regina F7 Scacco Ma è anche donna per F7 Scacco Giusto Alfiere H7 Scacco Re H8 Che mossa puoi fare? Cavallo F7 Giusto Cavallo per F7 Scacco Lui ti può fare Benda per F7 E Non c'è Non c'è granché Quindi Alfiere H7 Scacco Re H8 Seconda mossa più forzante Nella posizione Qual è? Regina H6 Donna H6 Bravissimo Sfruttando l'inchiodatura Giusto? Giusto Perché c'è l'inchiodatura Della alfiera E questo è Donna per H6 Stai minacciando Matto in G7 Unica mossa per difendersi F6 Chiude la diagonale Scusami Alfiere H7 Scacco Re H8 Ok Donna per H6 F6 L'alfiere torna In G6 Scacco Ma il nero Fa G per H6 Ti mangia la donna G per H6 No perché Io mossa l'alfiere In G6 E ma Il pezzo che fa scacco È la donna H6 Che prima Non poteva essere Mangiata perché Il pedone G7 È inchiodato Giusto Ma dopo il G6 Si è sfidato Il pedone G6 Corretto Quindi questa variante Con alfiere H7 Scacco E donna per H6 Non funziona Per via di F6 Quindi abbiamo trovato L'idea giusta Abbiamo scoperto Questo motivo Però forse Dobbiamo trovare La sequenza corretta Abbiamo capito Come sta funzionando La storia Che ci sono questi alfieri Che puntano Brillantemente Su queste linee E allora Qual è la seconda mossa La mossa più forzante È alfiere H7 Scacco Donna per F7 Scacco Queste le abbiamo verificate Non funzionano La terza mossa più forzante Qual è? Ricordati Dopo lo scacco Viene la minaccia di Matte Hai una mossa che minaccia matto? Mi sento come quando All'elementari La mia maestra in matematica Mi faceva le domande E io Prof Non la so Dai Dai Certo che la sei Certo che la sei Riparto da qua Riparto esattamente Da questa posizione Una minaccia di Matte Il bianco muove E minaccia Matte In una mossa Ci sono in realtà Due mosse Che minaccerebbero Matte In una mossa Ma Non vedo nulla coach Devi vedere per forza Cassetta Non ti sto dicendo Di dare già un giudizio Sulla mossa Se è buona o non è buona Ipoteticamente Quale mossa Puoi fare per minacciare Matte Gioca due mosse di fila Non far giocare il nero Il bianco fa due mosse di fila E fa Matte Ah Beh Se facessi due mosse di fila E non si muove Io mangio in H6 E poi do Matte Bravo 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 Quindi la minaccia di Matte E donna per H6 Su donna per H6 Cosa fa il nero? Mangia E tu che fai? Che pirla E do scacco in H7 Ed è matto Bravo Se ti dicevo Il bianco muove da matto in due La trovavi giusto? Il bianco muove da matto in due Sì Il problema è che Quando sei qua Non sai se c'è matto in due Sì però Però con così tanti pezzi Qualcosa c'è Sì Con così tanti pezzi Con il metodo delle mosse forzanti E anche diciamo con la sensibilità Che poi a un certo punto Uno riconosce il motivo Del matto con i due alfieri Questo è il famoso matto con i due alfieri Giusto È un tema E diciamo Si definiscono dei Dei quadri di matto tipici Questo è un quadro di matto tipico Tipico di questa posizione tra l'altro Quindi cominciamo ad associare Quello che studiamo come apertura Con le idee Che vengono avanti Rimuovere il difensore dell'arrocco Attaccare con i due alfieri Capito? Il sacrificio della regina È sempre molto È bello È bello Ma in partita poi Quanti Ho preso un matto l'altro giorno Di un tizio che ha sacrificato la regina Mi ha dato un matto col cavallo Ho detto wow Ti ha dato il matto affogato Ti ha dato Sì Sì Ho visto Complimentoni Però di solito uno Insomma Prima di sacrificare la regina Perché penso E se ho sbagliato a calcolare Ho perso una regina Insomma Chiaro No no Però questo è abbastanza ovvio Se appena lo vedi Dici Giusto Sì Diciamo Queste sono alcune idee Proprio molto importanti Del danese Almeno ti ho dato Le primissime indicazioni Ora Un'altra cosa Se ti fanno Perché sui quattro Le difese più comuni Oltre ai cinque Sono la siciliana La francese Ci sarà la Karokhan La tua Karokhan Poi c'è Un po' meno comune La difesa Peirce La difesa moderna La difesa scandinava Ok La difesa Lechin Ok Ce ne sono tante 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 A noi non interessa Se ti fanno c5 Alla fine Gioca semplicemente Gioca in tutti i casi Cerca di sviluppare Il cavallo L'alfiere Arroccare E spingere in D4 Ok Questa è la tua mission Monti Semplice Chiarissima Non ti importa Quello che succede Ovviamente non perdere Pezzi per strada Ma cerca soltanto Di sviluppare il cavallo L'alfiere Arroccare Nel frattempo Fare D4 Se riesci O al limite Se non riesci a fare D4 Fare D3 Ok Gioca a sentimento Non c'è bisogno Di studiare La teoria codificata Non in questo momento Gioca a sentimento Perché tanto Secondo me Due partite su tre Saranno E 4 E 5 E ti puoi giocare Il tuo danese Poi dobbiamo anche Fare un po' di teste Qua andiamo avanti Con esperimenti statistici Vediamo E' chiaro che se ti giocano Cento volte la francese Dovremmo studiare Un pochino di francese E la scandinava Perché io un periodo Giocavo questo In realtà all'inizio Quando ho iniziato a giocare A gennaio dell'anno scorso Giocavo La scandinava Cioè no Io giocavo E4 E poi facevo uscire Cavallo F3 Alfiere C4 E arroccavo Sì quella è l'italiana Sì Va benissimo Infatti Torni un po' indietro Torniamo proprio Alle basi Però torni indietro Adesso c'hai Un motore più potente E' cambiato Quello che prima facevi Adesso ti puoi divertire Adesso quando si gioia 4 e 5 Ci divertiamo Ok Ok Va bene Mi dici solo se uno appunto Fa la scandinava Di 5 Ti preoccupa Mangio o non mangio Mangi Certo che mangi Certo che mangi Devi aprire Aprire Apri 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 il più possibile Più il gioco è aperto Più diventi forte Ok C'è una famosa storia Su Mikhail Tal Il campione del mondo Che Soprattutto da giovane Era molto spericolato Allora a volte Si metteva davvero nei pasticci Allora il suo allenatore Koblenz Durante un torneo Si trovava a discutere Con un altro allenatore Che era felicissimo Di vedere Tal Praticamente morto E allora andava Lo stuzzicava Dice Oggi vedi Mischa Mi sembra un po' in difficoltà Dice Non so Che cosa ne pensi Quello Disperato E così E allora lo stuzzicava A un certo punto Una posizione Un po' strapersa Si apre una colonna Tipo Una colonna Aperta Allora Koblenz Va dall'allenatore E gli fa Che cosa ne penso Dice Guarda Adesso Ha aperto una colonna E Mischa Gli darà matto E andò Effettivamente così Ok Aprire 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 Va bene Esatto Ok Questa Ce l'ho Vuoi Vedere Lato nero O ci fermiamo Qua su Lato nero No Direi che troppi cambiamenti Insieme Poi rischi di No Continua a giocare La Karokan Già ti ho annunciato Che lato nero Ti farò giocare Un'altra cosa No Cambiamo prima Col bianco Che è un po' più semplice Col nero Già hai visto Che è delicato Lo cambieremo Credo Fra Un paio di settimane Ti lascio ancora Un po' di tempo Di rodaggio Per Per Me Utilizzare Il danese E eventualmente Altre risposte Molto comuni Che ti fanno Sui 4 E 5 Diciamo Un primo Repertorio Aperto Così con E 4 Soprattutto Il danese E poi ci adatteremo Un po' Alle varie risposte Del nero La Karokan Non ti piace Tantissimo Però la conosci Quindi non vorrei Proprio metterti Completamente In difficoltà Sia col bianco Che un minimo Di comfort Ma non giocare Più Nè giobbava Nel gambetto Di 4 Di 5 E 4 Non che non potrai Più giocarli Per tutta la tua vita Attenzione Per un periodo Di 2 3 settimane Gioca soltanto Questo Ok Tracollerò Arriverò A 1100 Tracollerai 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 E' molto probabile Che tracollerai Ma non ha nessuna importanza L'obiettivo è 2000 Monti Non è 1700 Ok Se vuoi arrivare A 2000 E' necessario Fare Secondo me Che differenza c'è Quando uno dice 1700 1800 1900 2000 Che differenza c'è In questo range Di questi 400 punti Secondo te La differenza più grande C'è fra i 1800 E i 2000 Secondo me Ah A 1600 E 1800 Sono giocatori Più o meno Dello stesso livello Il giocatore che a 1800 Gli funzionano meglio Alcune cose Per esempio Ha delle aperture Più rodate Ha più esperienza Gioca anche a tavolino E' più forte tatticamente Conosce i finali No Sono tutte Skills Che magari A 1600 Si hanno un po' di meno No A 1700 Però di fondo È lo stesso giocatore Diciamo La soluzione che ha dato Agli scacchi Più o meno È la stessa È simile Invece Fra 1800 E il 2000 Diciamo È un giocatore Che sa molte cose È un giocatore Che ha capacità di sintesi Che può applicare Uno schema Da una cosa all'altra Che può Diciamo No Che può Portare l'avversario Su terreni Sconosciuti A molte Molte Lì c'è secondo me Una bella differenza Fra 1800 E 2000 Ma anche forse Semplicemente Tatticamente È molto più forte Un giocatore di 2000 Un parametro importante Sono il tipo di errori Per esempio Un giocatore a 2000 Non credo Che si prende matto In una Un giocatore a 1800 Gli può succedere Va bene Ok Per cui diciamo Sopra 1800 Uno inizia a essere Un giocatore Più serio Tra virgolette Sì Sì Ma io me ne rendo conto Poi Forse ci sono altri Anche altri metodi Questo è molto empirico Mi è empirico Da come finiscono Le partite Cioè A livello 2000 È raro Che la partita Finisce bruscamente Perché c'è stata una cosa O è raro Che finisce in 15 mosse Capito? Chiaro A livello 1600 1800 Possono succedere Tante Tragedie Tante cose Un po' Un po' Spiacevoli Quindi cambia Cambia un bel po' Il livello Tu Te l'ho già detto D'altra volta A 1700 Ci arrivi Solo massimizzando Un po' Quello che già sai fare Senza dover raggiungere Altre conoscenze Però Arrivi a 1700 E poi Ti fermi un pochino A 1700 Non va tanto bene Sta cosa Io voglio che Rapidamente Cominci ad entrare In zona Non dico 2000 Perché poi 1800-2000 È difficile farlo Lì è veramente Molto difficile Tu già adesso Hai fatto un bel progresso Ma Sarà molto difficile La parte 1800-2000 Lì devi veramente impegnarti Tanto 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 E Secondo me Questo primo periodo Devi vederlo un po' Come un apprendistato Stai andando a bottega Capito Stai imparando Un po' Un apprendistato Poi ci sarà un momento In cui ti devi mettere Veramente a fare Cose Cose difficili E impegnative 1800-2000 Lì devi Devi dare il massimo No Ma lì Piero ha già Parlato con Magnus E lui viene Due mesi Si trasferisce a Brighton Viene qua nello studiolo Per osmosi Capito Un po' Respira la stessa Metto lì Respiro Guardo Grande Senti Pier Fantastico Cioè fantastico Sono molto felice E molto triste Secondo me sei un po' triste Secondo me sei un po' triste Però Allora Ma Monti Altra cosa importantissima 10 minuti Più 10 secondi Ok E una partita alla settimana Fammela A cadenza almeno 25 minuti Ok 20 25 Ma 25 va bene 25 più 10 per esempio Dammi come dire Cioè Ogni giorno secondo te Quante partite Realizzate Sapendo che poi Un pochino sforo Allora Un giorno Tu mantieni sempre Un giorno Di divertimento Ok In cui puoi giocare Ti concedo di giocare anche La Giobbava in quel giorno Ma solo in un giorno Non Ok Un giorno Secondo me Non devi giocare proprio Fai soltanto esercizi Esercizi Ok Potenziali scacchi Ok Ma non devi giocare Ok Gli altri giorni Uno Ti fai una partita Lunga Una o due Per esempio Se giochi a 20 minuti 20 minuti Più 10 secondi O 20 minuti secchi Si può fare anche lì 20 minuti secchi Ti puoi fare due partite Ok Una col bianco Una col nero Ok E vedrai che ti stancherai Tantissimo A fare questa cosa Poi Negli altri giorni A 10 più 10 Io farei 4 partite 4 massimo 6 Perché comunque sono un po' più lunghe 10 più 10 Sono più lunghe Come partite Vedi Quanti riesci a fare 4 barra 6 Ok Quindi la guaruta Proprio Fai che ne so 4 6 partite 10 più 10 4 6 partite 10 più 10 Un giorno senza giocare Un giorno la partita lunga Un giorno di divertimento Giochi Alla cadenza che vuoi Le aperture che vuoi Un minuto Fantastico Va bene Eseguirò Coach C'è già una prossima settimana Allora Va bene Mi raccomando Questo è un momento importante Qui Si stanno un pochino Si sta alzando La asticella Qua ti devi proprio Motivare E la sofferenza C'è per l'abbandono Della Giobbava Però devi superare Questo brutto momento Che 4 sia con noi E la Danimarca Ci porti lontano Piero alla prossima Ciao 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 Monti Ciao